Una storia come questa sembra un film e si dice che Federico Fellini avesse provato a interpellare una dei personaggi di questa storia perché voleva che recitasse la parte di se stessa in un film dedicato a questa vicenda ma non se ne fece nulla. Questa storia è come un film, forse anche peggio, perché tutto l'orrore che circonda queste vicende è realtà. Sono Black Pralin e racconto storie nere. Roma, giugno 1969. La radio suona tutta mia la città dei camaleonti e acqua azzurra acqua chiara di Battisti. Al cinema c'è Satiricon di Fellini. In un appartamento al primo piano di una palazzina di via Cutilia 51 nel quartiere San Giovanni vicino a piazza Re di Roma vive una coppia. Sul citofono c'è scritto Conti Amato. L'affitto per quelle tre camere e servizi è di 47.000 lire. Marito e moglie ci sono arrivati il 12 aprile. Lui si chiama Graziano, ha 31 anni, è nato a Roma il 20 marzo del 1938 e ha sulle spalle diversi precedenti penali. Non lavora e lo stanno anche cercando per una condanna a sei anni ancora da scontare. È per questo che sul citofono Graziano Lovaglio ha messo dei cognomi falsi. Sostiene di non riuscire a trovare un lavoro per via dei suoi precedenti, ma in realtà di lavorare non è che ne abbia molta voglia. Ha due fratelli, Domenico, che è in galera. E Luigi, detto Gino. Chi non lo conosce bene parla di lui come di un uomo estremamente tranquillo e mite, ma pare che qualche volta a Graziano gli è parta la brocca, come raccontano al circolo Enal, dove una volta aveva fatto una scenata e aveva minacciato tutti, rompendo una bottiglia. Una sentenza di qualche anno prima, in seguito ad una denuncia per lesioni e minacce, lo descrive come pronto alla reazione violenta e incline al cieco furore. Un giorno Teresa, sua moglie, era andata a cercarlo e gli aveva raccontato che il parrucchiere l'aveva imbrogliata, le aveva dato il resto sbagliato. Lui aveva fatto una scenata pazzesca, sembrava impazzito. La moglie si chiama Teresa Poi Domani, ha 32 anni e fa la vita. Sì, insomma, si prostituisce. Tra i due, chi porta i soldi a casa è lei. E Teresa è riuscita a mettere da parte anche alcune cospicue somme di denaro. Ha un libretto al Banco di Santo Spirito, a suo nome, con due milioni e mezzo di lire. È un libretto postale, con due milioni e settecento mila lire. Poi ci sono anche altri due libretti intestati al figlio dodicenne, Luigi. Teresa arriva da una famiglia povera. Abitavano in otto in una baracca a Vicolo del Vicario. A undici anni viene affidata alle suore francescane di Via Monte del Gallo, dove rimane fino ai 14. Era una bambina molto ribelle e, una volta cresciuta, ha inanellato una serie infinite di denunce per atti osceni e false dichiarazioni d'identità. Insomma, ha la buon costume e la conoscono bene. Teresa e Graziano hanno due figli, ma in realtà il primo, Luigi, non è figlio di Graziano, ma di un altro uomo. Il più piccolo, invece, Franco, ha sei anni. Teresa non ha rapporti con la sua famiglia e lei e sua madre si vedono molto poco, al punto che la donna ignara persino dove la figlia sia andata a vivere. Teresa non ha mantenuto i rapporti nemmeno con le sue sette sorelle e col fratello. Alcuni di loro non la vedono da tantissimi anni. Tra Graziano e Teresa le cose non vanno bene. Il loro rapporto è finito da tempo, lui vorrebbe separarsi, ma sembra proprio che non riesca a prenderla questa decisione. Lei di lui farebbe veramente a meno. Gli dice sempre che è un pazzo. I vicini di casa sentono spesso violente litigate provenire dal loro appartamento. A volte Teresa scrive dei biglietti rivolti a Graziano, col quale parla sempre meno. In uno scrive, con la mia macchina non ci voglio niente di rubato, hai capito? Tanto le doppie chiavi. Fai pure come ti pare, tanto da ieri sera io avevo intenzione di andarmene. Se tu vuoi, io lo faccio a denunciarti. E ancora. Non mi venire a cercare perché non mi trovi. Io prendo il primo treno che capita e vado via dove il destino mi porterà. In un altro biglietto Teresa scrive. Io, sottoscritta poi domani Teresa, dichiaro di non convivere più con mio marito perché non ci prendiamo di carattere. Lui è pazzo, mi mena sempre perché vuole più soldi tutte le notti quando mi ritiro. Fortunatamente a quelle liti non assistono i bambini che in quella casa da quando ad aprile i loro genitori si sono trasferiti ci saranno stati sì e no tre volte. Luigino e Franco stanno a casa della nonna paterna, la signora Carmela. È venerdì 20 giugno 1969. Graziano va a prendere sua madre, i suoi figli e sua sorella Anna con l'auto di sua moglie. La signora Carmela, la nonna, ha comprato una torta gelato per festeggiare l'onomastico di Luigino, che sarebbe il giorno dopo, sabato 21. Quando arrivano nell'appartamento di via Cutiglia, Graziano mostra a tutti con orgoglio il frigorifero nuovo in cucina. Teresa non c'è. Poco dopo, Graziano esce dicendo che tornerà di lì a poco e quando rientra con lui c'è anche un suo amico Vincenzo, che ha con sé delle bombole da sub. Luigino chiede a che cosa servano e l'amico del papà gli spiega che lui e il padre vogliono fare delle prove sott'acqua. A quella tavola dunque, intorno alle 10 di sera del 20 giugno, si siedono Graziano, la madre Carmela, la sorella Anna, Luigino di 12 anni, Franco di 5 e l'amico Vincenzo. Mangiano e bevono. Dopo mangiato, Graziano dice alla madre che quella sera i bambini rimarranno a dormire lì sul divano letto del salotto ed esce per riaccompagnare la mamma e la sorella nella loro casa di via da meta. Con loro c'è anche Vincenzo che insisterà per offrire qualcosa da bere lungo il tragitto in un bar. In quel frangente i bambini rimangono a casa da soli e Luigino rimane sveglio fino a mezzanotte e 40. Il bambino si ricorda bene il momento in cui aveva deciso di andare a dormire perché aveva guardato il suo orologio. Intorno a luna Teresa rientra. Durante quella notte succede qualcosa. Luigino si sveglia improvvisamente, ha capito che è rientrata la mamma perché sente i suoi genitori litigare nel corridoio. Non ci fa caso più di tanto e cerca di riaddormentarsi ma poco dopo sente urlare suo padre. Luigi non rimane nel letto, non si muove ma cerca di capire che cosa stia succedendo. Forse si riaddormenta, forse passa tanto tempo dall'urlo di suo padre o forse soltanto una manciata di minuti quando ad un certo punto sente la mamma che con la voce sempre più flebile dice aiuto Vincenzo. Luigi ora ha paura e si alza dal letto, vuole andare a vedere che cosa stia succedendo. La porta del salotto però è chiusa a chiave dall'esterno. Qualcuno ha chiuso lui e il suo fratellino nel salotto. Quindi Luigi inizia a bussare a quella porta perché vuole uscire, vuole vedere che cosa stia succedendo ai suoi genitori. Rimane sorpreso nel sentire la voce di Vincenzo, l'amico del papà, che gli dice vai a letto, mamma e papà stanno litigando. Luigi cerca di spiare attraverso il buco della serratura ma non vede nulla quindi torna a dormire. Nel frattempo gli inquilini che abitano al piano terra sotto l'appartamento di Graziano e Teresa si svegliano a causa del baccano di quell'ennesima lite. Hanno una bambina di pochi mesi e sono esasperati da quella situazione. Quelli del piano di sopra litigano ogni notte, si lanciano oggetti, la situazione è intollerabile. Anna Benatti e suo marito Gesualdo Maturani quella notte sentono grida furiose di un litigio. Il pianto di una donna e poi un oggetto in vetro che cade in frantumi. E' da poco passata l'una. Di colpo i rumori finiscono e i signori del piano terra cercano di riprendere sonno. In quella notte così movimentata però succede qualcosa di assurdo. intorno all'una e mezza Luigi Lovaglio detto Gino, il fratello di Graziano che ha 33 anni, arriva in via Cutiglia 51 perché ha deciso di passare a salutare i suoi nipotini. Sa che quella sera sono a casa del fratello. E' un orario insolito ma in questa famiglia sono tutti un po' particolari. Gino sa che può andare a casa di suo fratello quando vuole e sa anche che Teresa torna tardi e che suo nipote Luigi è solito andare a dormire ben dopo la mezzanotte. Quando arriva nota qualcosa di strano. Trova la mini Cooper di Teresa parcheggiata in seconda fila col portabagagli aperto. Suona il campanello e ad aprire la porta lasciando attaccata la catenella e Vincenzo l'amico di Graziano che si rifiuta di farlo entrare spiegandogli che Graziano è uscito con Teresa e che gli ha detto che non vuole che entri nessuno. Se vuole può aspettarlo fuori. Gino Lovaglio guarda quell'uomo dietro la porta di casa di suo fratello e gli dice ma che stai a di? Ma Graziano è irremovibile e gli dice che se vuole aspettarlo fuori suo fratello che faccia pure. Gino lo manda a quel paese e se ne va. Ma quella lunga notte strana in via Cutiglia non è ancora finita perché alle tre succede qualcosa. Il litigio nell'appartamento del primo piano riprende. La voce di un uomo grida diverse volte. Non ce la faccio più. E successivamente si sente un tonfo incredibile quasi come se un mobile molto pesante fosse caduto sul pavimento ed è a quel punto che gli inquilini del piano di sotto decidono di chiamare la polizia. Quando arriva la pattuglia sono circa le 3 e 30 del mattino. Gli agenti si dirigono verso la porta dell'interno 5 e suonano il campanello. Ma ora in quell'appartamento c'è un silenzio assoluto. La voce di un uomo dall'altra parte della porta. Si scusa e dice che non è successo niente. Così gli agenti se ne vanno. Intorno alle 8 del mattino Luigi non si sveglia ed è molto sorpreso nel vedere che Vincenzo l'amico di papà sta dormendo vicino a lui e a suo fratello a terra su alcuni cuscini. Il bambino si alza per uscire dalla stanza deve andare in bagno ed è in quel momento che Vincenzo si sveglia. Mentre Luigi attraversa il corridoio nota sul pavimento delle macchie di sangue. C'è del sangue anche sulla parete destra della porta d'ingresso dell'appartamento. Il bambino prova ad entrare nella camera da letto dei suoi genitori ma Vincenzo che nel frattempo si è alzato gli impedisce di entrare. Era stato proprio il papà che gli aveva raccomandato di non far entrare i bambini nelle altre stanze. Luigi vuole sapere dove sono mamma e papà e Vincenzo gli dice che sono dovuti partire durante la notte. Era venuto a prendergli un amico a bordo di una Giulia Nera. Dovevano andare fuori Roma perché la mamma non stava bene. Vincenzo aggiunge di non preoccuparsi. Lo rassicura e gli dice che papà e mamma torneranno presto e che accompagnerà lui e il fratellino che ancora dorme dalla nonna. Vincenzo chiede a Luigi di andare sul balcone a prendergli un paio di pantaloni che aveva steso la sera prima. Quei pantaloni sono bagnati e il bambino chiede come mai. Così Vincenzo gli spiega che la sera prima sua mamma con una spazzola aveva tentato di pulirglieli perché si erano macchiati. Ma quella non è l'unica stranezza. Sì perché Vincenzo ha le mani fasciate. Alla belle meglio ha usato dei fazzoletti per fasciarsi. È ferito. Luigi non gli domanda come abbia fatto a farsi male. Visto che la sera prima a cena non aveva le mani fasciate e lui risponde che durante la notte era dovuto andare in motocicletta a Nettuno e aveva avuto un incidente. Ma chi è questo amico di papà? Chi è Vincenzo? Vincenzo Teti è nato a Roma il 26 gennaio del 1938. Ha 31 anni. Ha un fratello più piccolo. Sua madre si chiama Maria e il padre Francesco ma lui non l'ha mai conosciuto perché è morto in seguito alle ferite riportate durante la guerra d'Africa mentre sua madre era incinta di suo fratello. A quei tempi la signora Maria faceva la sarta e non riuscendo a mantenere entrambi i bambini aveva portato Vincenzo dai parenti in Calabria dalla nonna paterna. A sei anni Vincenzino era ritornato a Roma dove era stato affidato alle suore salesiane per tre anni e poi dai preti a Vignapia all'istituto agricolo fino a 13 anni. A 14 Vincenzino era ritornato a casa a Roma e aveva avuto un'amara sorpresa. La madre nel frattempo si era risposata e a lui non lo aveva detto. Era molto arrabbiato Vincenzino e i rapporti con la madre si erano incrinati definitivamente. Lei lo aveva mandato a lavorare e quando non portava abbastanza soldi a casa scoppiavano litigi continui. Così Vincenzino aveva deciso di andarsene aveva trovato lavoro a Luna Park all'Eur poi la giostra aveva chiuso e allora si era cercato un altro lavoro era diventato tappeziere. Aveva anche aperto un piccolo negozio indebitandosi portando con sé a lavorare suo fratello più piccolo che però di lavorare voglia non ne aveva. Così Vincenzo lo aveva cacciato. Successivamente una sera quel negozio era andato a fuoco e Vincenzo ha sempre sospettato che sia stato suo fratello a incendiarlo. Vincenzo è uno che cerca di arrabbattarsi come può. Lavora assaltuariamente come comparsa a Cinecittà. Per un breve periodo viene assunto da una ditta che però lo licenzia perché viene scoperto a rubare della stoffa. Vincenzo prova anche ad aprire un'attività a Milano ma si affida alle persone sbagliate che lo truffano e gli portano via i pochi risparmi che aveva. Così si mette a rubare collezionando qualche denuncia per furto. Alla sua età non è ancora riuscito a prendere la patente. Sono anni che ci prova e finalmente il 28 giugno ha preso il foglio rosa all'autoscuola Pancalli sulla Tuscolana. Vincenzo vive di espedienti. Qualche furto. Un po' di ricettazione. Davanti agli amici del circolo Enal in piazza Imola 7. Ha ammesso di fare il ladro. Chi lo conosce lo considera un tipo solitario, silenzioso. Arriva al circolo nelle prime ore del pomeriggio, gioca un po' a calcio balilla, a carte. La sera va a mangiare all'osteria Umberto in via Vicolo del 5. Vincenzo va a dormire in alberghetti modesti. Prima è stato all'albergo sole e ora è al Flora. Qui nel novembre del 1968 ha conosciuto una ragazza. Si chiama Anna Boccanera e fa la prostituta. A Campo dei Fiori la chiamano la Matta perché ogni tanto ha qualche reazione un po' agitata. Ha 29 anni e fa la vita da otto. Da due anni vive all'albergo Flora, nella stanza numero 10. Anna ha anche due figli che vivono col padre ma lei non sa nemmeno dove. Vincenzo con lei è molto amorevole. La prega di smettere di prostituirsi. Le promette di sposarla. A lei Vincenzo ha raccontato che per campare ripara a Bigliardini. A fine giugno del 1969 Anna rimane incinta e Vincenzo ora è categorico. Le dice che non dovrà mai più scendere sul marciapiede, che andranno a vivere insieme e che si sposeranno. Ma torniamo a sabato mattina 21 giugno 1969 dopo quella notte strana in via Cutiglia. La signora Carmela, 57 anni, madre di Graziano Lovaglio, vede arrivare con un taxi l'amico di suo figlio Vincenzo, quello che c'era a cena la sera prima. Le ha riportato i bambini e le dice che Graziano e Teresa sono dovuti partire improvvisamente e che Graziano gli ha chiesto la cortesia di riportare i bambini dalla nonna. Aggiunge anche che non gli ha specificato quando torneranno. La mamma di Graziano e la sorella Anna, che vive con lei, si accorgono che Vincenzo ha le mani fasciate e gliene chiedono conto e anche a loro spiega di quell'incidente in moto. L'uomo, prima di andarsene, insiste con Anna per darle mille lire da regalare a Luigi, per l'onomastico, ma la donna non vuole prenderli quei soldi. Sono troppi. Così Vincenzo saluta e se ne va. La sorella di Graziano rimane interdetta. Com'è possibile che la sera prima suo fratello e sua cognata non abbiano detto a lei e alla madre che sarebbero partiti. Poco dopo, Luigi inizia a raccontare alla nonna e alla zia una storia strana. Racconta quello che era successo la sera prima e aggiunge che aveva anche visto del sangue a terra. Anna Lovaglio non si meraviglia più di tanto al racconto del nipote perché sa che suo fratello e sua cognata litigano e spesso se le danno di santa ragione. E nemmeno nei giorni successivi Anna e sua madre daranno troppo peso alle parole del bambino perché probabilmente non gli credono. Nei giorni successivi Vincenzo va diverse volte a trovare i bambini di Graziano. Una volta porta anche le paste e delle cassate. Nel frattempo Graziano e Teresa non hanno dato loro notizie. Non telefonano nemmeno una volta per giustificare quella loro partenza improvvisa. Graziano in quel periodo gestiva un negozio di materiale elettrico in Viale dei Platani. Il negozio era di un suo amico Paolo che glielo aveva ceduto tra aprile e maggio del 69. In realtà Graziano in quel negozio non c'è mai perché è ricercato in quanto deve ancora scontare una condanna e non vuole farsi trovare. Dopo il 21 giugno Graziano non si fa più vivo nemmeno con Paolo e non gli paga più l'affitto del negozio. Nemmeno i vicini di casa di via Cutiglia 51 vedono più Graziano e la moglie. Il signor Gagliardi abita nel palazzo a fianco. La sua camera da letto confina con quella dei due coniugi e anche lui è abituato alle liti continue che scoppiano tra loro. Sente spesso Graziano dire basta sono stanco di questa vita. Tutti ci guardano voglio cambiare. Teresa invece parla sempre a voce bassa. Durante quelle liti volano stoviglie e oggetti che vanno in frantumi e il signor Gagliardi sente spesso Graziano piangere disperato. La notte tra il 20 e il 21 giugno Gagliardi ha sentito Teresa dire tanto la pistola e ti sparo. Era stato pochi minuti prima dell'arrivo della pattuglia chiamata dagli altri vicini. La moglie del signor Gagliardi era convinta che Graziano, Teresa e Vincenzo Teti vivessero tutti e tre nello stesso appartamento perché li vedevano insieme sempre. Dunque Graziano Lovaglio e sua moglie dopo aver litigato furiosamente quella notte sono partiti. Nei giorni successivi a quella movimentata notte del 21 giugno gli inquilini del piano terra sentono per diversi pomeriggi sempre intorno alla stessa ora tra le due e le tre dei colpi sempre più forti provenire dall'appartamento dei Lovaglio. Il signor Maturani era addirittura sceso in strada e aveva fischiato fortissimo rivolto al balcone dei Lovaglio per farli smettere. Nei giorni successivi quei rumori continuano meno forti del solito. Di notte i signori del pian terreno sentono i passi di una persona sola che cammina nell'appartamento di Graziano e Teresa. Nel frattempo l'unica persona ad essere stranita da quanto è accaduto quella sera è Gino il fratello di Graziano che per due volte che per due volte incontra Vincenzo Teti per chiedergli che cosa sappia di questa strana partenza del fratello e della cognata. A Gino quell'amico di suo fratello non la conta giusta. Ha deciso che se non otterrà informazioni andrà in questura. Vista l'insistenza di Gino Vincenzo Teti cerca di dargli delle spiegazioni e gli racconta due versioni diverse. Prima gli dice che Graziano e Teresa sono dovuti partire per piazzare del loro rubato ma poi gli dice che la verità è un'altra. Suo fratello e Teresa si trovano a Napoli perché quella notte hanno litigato furiosamente lei era rimasta sfregiata al viso da un colpo di bottiglia. Così Graziano l'aveva accompagnata a Napoli dove c'è un dottore che lui conosce che si sarebbe occupato di lei. Vincenzo aggiunge che non gli aveva raccontato subito questa versione perché non voleva farlo preoccupare. Gino non sa che cosa pensare. È il 9 luglio del 1969. Intorno a mezzogiorno alla caserma dei carabinieri della Magliana arrivano tra felati due bambini. Si chiamano Gualtiero e Paolo, hanno dieci e sei anni e sono sconvolti. Quel giorno erano andati a giocare sulle sponde del Tevere in mezzo ai canneti quando avevano visto qualcosa sulla superficie dell'acqua. Si erano avvicinati e avevano capito che quella cosa che sembrava un pallone in realtà era una testa. Quella testa è rimasta incastrata vicino a un muretto di cemento. Arrivano subito le forze dell'ordine. La testa è stata recisa dal tronco all'altezza del mento con un taglionetto. Si notano anche delle ferite da punta e taglio vicino all'orecchio sinistro. La testa appartiene ad un uomo. La fronte un po' sfuggente, il naso piccolo come le orecchie e la bocca. La barba è scura ed era stata rasata di recente. Sulla testa ci sono pochi capelli. Arrivano i sommozzatori che cercano il resto del corpo dal quale forse quella testa si è staccata a causa della permanenza nelle acque del Tevere. Forse si tratta di un suicida o di un uomo che stava facendo il bagno e che per disgrazia è stato colpito dall'elica di un motoscafo, pensano. I medici legali, Carella e Marracino, analizzano la testa e quelle ferite lacero contuse sulla parte sinistra vicino alla bocca, al mento e sotto l'orecchio sinistro. Sono certi che a compiere quello scempio non sia stata l'elica di un motoscafo ma qualcuno che l'ha fatto di proposito. Il 16 luglio. Un ragazzo di 21 anni sta passando sul molo del porto di Ostia quando nota galleggiare all'altezza del ristorante La Perla un braccio. Arriva la polizia. Su quel braccio c'è un tatuaggio che però non si riesce a decifrare. Secondo il medico legale l'arto appartiene ad un uomo tra i 40 e i 50 anni alto circa un metro e 65. Il braccio deve essere stato tranciato con una sega sottile circa 15-20 giorni prima, approssimativamente tra il 25 e il 30 giugno. Quel tatuaggio inizia sul bicipite e si allunga fino alla spalla che però non c'è. Per qualche giorno non si parla d'altro che di quei macabri ritrovamenti ma poi un evento straordinario catalizza l'attenzione di Roma e del mondo intero. 5 piedi e mezzo. 2 metri andiamo ancora di progettare le ferie go ha toccato 3 e a half down, 5 forward. No, non ha toccato. 875 feet, that's what you're just down and half. 6 forward. Le ore sono le 22 e 17 in Italia, le 15 e 17 a Houston, sono le 14 e 17 a New York. Per la testa di un veicolo tirotato dall'uomo ha toccato un altro corpo genetico. Questo è frutto dell'intelligenza, è frutto della preparazione scientifica, è frutto della fede per gli altri. A voi Houston. È il 21 luglio del 1969. La notte precedente è stata indimenticabile. La RAI, dallo Studio 3, a partire dalle 19 e 30 del giorno prima, domenica 20 luglio, ha iniziato la diretta dal titolo L'Uomo sulla Luna. Gli italiani sono pronti a rimanere svegli per tutta la notte per vedere con i loro occhi alle 5 del mattino Neil Armstrong poggiare il piede sul suolo lunare. 5 ore dopo, alle 10 del 21 luglio, un uomo di 47 anni che di mestiere fa lo stracciarolo si aggira sul lungo Tevere San Paolo con il suo furgone, alla ricerca di qualcosa da recuperare e rivendere, quando a un certo punto sente la necessità di fermarsi per un bisogno fisiologico. L'uomo ferma il suo furgone sul ponte Marconi e scende lungo l'argine del Tevere, qui in un canneto nota un involucro di tela. Pensa che forse lì dentro potrebbe esserci qualcosa di interessante, così si avvicina per aprire quel sacco, ma già dopo pochi passi viene investito da un odore terribile, pungente. Così con il suo coltello taglia il sacco e trova all'interno un altro involucro di nylon e a quel punto l'odore diventa insopportabile. L'uomo pensa che all'interno ci sia un animale morto, ma ci mette pochi istanti a capire che in quei sacchi ci sono i resti di una persona. Spaventato a morte, scappa e quando vede un vigile urbano, lo ferma e gli dice che deve andare subito a vedere che cosa c'è in quel canneto. Il vigile va a controllare e anche lui non ha dubbi. In quei sacchi ci sono i resti di una persona o forse a guardare bene due persone. La squadra mobile di Roma arriva in pochi minuti e gli agenti, a circa 150 metri dal punto in cui sono stati trovati quei sacchi, trovano anche un sanpietrino. Fino a qualche giorno prima, lì, c'era un accampamento di nomadi. Quei sacchi vengono portati all'Istituto di Medicina Legale di Piazzale del Verano. All'interno di quel macabro pacco c'è un tronco con sei ferite da punta e taglio. I medici legali non hanno alcun dubbio nell'affermare che quel tronco e il braccio ritrovato pochi giorni prima appartengano alla stessa persona e lo capiscono subito anche grazie alla parte di tatuaggio presente sulla spalla che combacia perfettamente con quella trovata sul braccio rinvenuto giorni prima. Ci sono anche i resti di una donna. Alta circa un metro e cinquanta, forse è stata strangolata, ha le gambe tagliate a metà coscia, indossa una maglietta verde con le maniche corte, una gonna verde, una sottoveste rosa, un corpetto nero con la chiusura a lampo anteriore e un reggi calze. Gli uomini della mobile interrogano alcune persone che vivono nel campo Roma al Mandrione e in quello di Centocelle. Nessuno tra loro però ha mai visto quel tatuaggio e soprattutto gli abitanti dei campi Roma dicono che tra loro non manca nessuno. Quella pista dunque viene abbandonata. I giornali raccontano di quei macabri ritrovamenti e quando Gino Lovaglio, il fratello di Graziano, legge di quel braccio ritrovato nel fiume e di quel tatuaggio, prova un senso di angoscia tale che decide di non comprare più il giornale. Non ne vuole più sapere. È una reazione assurda la sua. Suo fratello e sua cognata non si trovano e quel tatuaggio di cui parlano i giornali è molto familiare. Ma sono strani in quella famiglia, si sa, e Gino ha troppa paura che le sue sensazioni non siano sbagliate. Graziano ha un tatuaggio identico. Se lo era fatto fare in carcere quando nel 55 a 19 anni era stato arrestato per un furto compiuto l'anno prima. Quando Gino viene a sapere che tra i resti di quella donna ci sono delle protesi dentali, è una fede. Compra paese sera per saperne di più. Ma in cor suo non ha più dubbi. Gino chiede a suo nipote di raccontargli di nuovo di quella sera quando aveva dormito a casa di papà. Gli chiede di spiegargli tutto un'altra volta e il bambino senza indugio gli ripete quanto già gli aveva raccontato. Quella notte aveva sentito papà gridare e poi la mamma gridare. La mamma diceva aiuto Vincenzo e poi dei forti rumori. Il ragazzino gli dice di quella porta del salotto chiusa a chiave e di quelle macchie di sangue in casa. Eppure lui Gino quelle cose le aveva raccontate oltre che allo zio Gino, anche alla nonna, e alla zia Anna. Ma nessuno lo aveva preso sul serio. Gino Lovaglio va in questura per chiedere di riconoscere gli oggetti delle vittime. La fede è quella di Teresa. Sono sue anche le protesi ai denti. L'uomo ricorda che suo fratello, quando viveva in un appartamento di via Palasciano, aveva una sega d'arco che gli inquirenti ipotizzano sia stata usata per sezionare i corpi. Ora sarà necessario andare nell'appartamento dei Lovaglio in via Cutiglia. Dunque, finalmente, quei corpi hanno un nome. Teresa poi domani e Graziano Lovaglio. Alle prime ore del 26 luglio, gli uomini della squadra mobile sfondano la porta dell'appartamento di via Cutiglia 51. Nel frattempo, i giornali, quel giorno, già titolano identificate le vittime, catturato all'assassino. Ma ancora, in realtà, non è stato individuato proprio a nessun colpevole. L'appartamento dove vivevano Graziano e Teresa è in disordine. C'è qualcosa di strano, i mobili sono accatastati, come se dovesse esserci un trasloco di lì a poco. Nel bagno, sul water, c'è della biancheria lavata, sulla quale si notano ancora delle tracce di sangue. C'è del sangue anche sul montante destro della porta del bagno, all'altezza dell'interruttore della luce, 80 centimetri da terra, come se l'assassino entrato in bagno con le mani insanguinate avesse cercato di accendere la luce. Deve essere qualcuno che conosceva quella casa, perché le macchie di sangue vengono rinvenute proprio vicino all'interruttore, come se sapesse dove si trovava. In cucina c'è una tanica sui fornelli, sul tavolo c'è della carta da imballaggio e un gomitolo di spago. A terra un cesto, in un cassetto c'è un coltello a seghetto di 30 centimetri macchiato di sangue. In camera da letto c'è una busta di cellofan con dentro delle scarpe da donna. Anche in questa stanza si vede chiaramente l'intenzione di traslocare. I cassetti dei comò sono vuoti e appoggiati sul letto. Ci sono valigie, scatoloni, una macchia di sangue malamente lavata e molto grossa viene trovata sul battiscopa vicino al comodino sul lato destro del letto. Nella sala da pranzo a destra c'è una credenza a sinistra il tavolo che è stato spostato al ridosso del muro. Le sedie non ci sono. Sul tavolo del salotto è stata piazzata una di quelle sedie. Ci sono anche un raschietto e un barattolo di DDT in polvere. una parte del vetro della porta finestra è rotto. Sul balcone ci sono tre san pietrini. Vicino alla porta della sala da pranzo c'è una pentola con all'interno pezzi di tappezzeria. È stata raschiata via dal muro dall'angolo vicino alla finestra sicuramente per eliminare tracce di sangue. Gli uomini della mobile sanno che lì dentro deve essere successo qualcosa di macabro. In ogni stanza ci sono i segni di quello che con tutta probabilità è un duplice omicidio mentre si aggirano per le stanze. Dalla porta succhiusa dell'appartamento dei Lovaglio si affacciano due persone che vedendo la polizia rimangono a bocca aperta. Sono due facchini della ditta di traslochi Sbordone che sono venuti a portare via i mobili di quella casa per il trasloco che è già stato pagato 30.000 lire. Quando gli agenti chiedono chi abbia pagato per quel trasloco non si meravigliano nel sentire la risposta. Lo ha pagato un certo Teti Vincenzo. Ormai la vicenda è di dominio pubblico i giornali parlano anche di loro dei protagonisti Vincenzo Teresa e Graziano. Graziano che era arrivato dalla Sicilia non aveva voglia di lavorare e quando aveva lavorato si era fatto licenziare e poi aveva iniziato a rubare Graziano e lo avevano arrestato. Quando aveva sposato Teresa non aveva fatto nulla per toglierla dal marciapiede e aveva pensato di sfruttarla sempre secondo i giornali Graziano Lovaglio non era nemmeno buona a fare il protettore e allora era entrato in scena Vincenzo Teti e in due avevano iniziato a sfruttare Teresa che lavorava ogni notte sul marciapiede. Questa però rimane soltanto un'ipotesi dei giornalisti prove che Vincenzo Teti sfruttasse Teresa non ce ne sono e poi lui al circolo Enal lo diceva sempre che gli odiava i papponi. Emerge che la macchina di Teresa una mini cooper verde targata Roma D3 2040 che veniva sempre lasciata sotto casa sia stata ritrovata in un'auto rimessa di via Britannia 18 a pagare il posteggio a partire dal 21 giugno fino al 6 luglio per 5200 lire è stato il signor Vincenzo Teti che però non ha la patente e questo è un aspetto curioso. Quando il 28 giugno era andato a prendere il foglio rosa all'autoscuola a Pancaldi aveva le mani fasciate e quelle fasciature le avevano viste anche gli operai dell'auto rimessa. In quell'auto non ci sono tracce di sangue se i corpi sono stati trasportati su quella macchina l'assassino deve averli impacchettati per bene e deve aver protetto i sedili con ulteriori teli o sacchi perché non si sporcassero. Italia Pancalli la figlia del titolare dell'autoscuola di via Tuscolana racconta che la prima volta che Teti si era presentato per prendere la patente era il maggio del 1966 ma l'avevano bocciato 5 volte all'esame di teoria. Poi lo aveva superato ma era stato bocciato nella pratica. Tre anni dopo nel 1969 ancora doveva prendere la patente la ragazza lo descrive come un giovane molto educato è venuto il 28 il 29 giugno a ritirare il foglio rosa aveva graffi evidenti sul viso che gli avevo già visto il 25 quando era venuto per la visita di idoneità io sono sicura che Teti fosse in grado di guidare perché una volta me lo disse mi aveva detto io la macchina la so guidare la teoria che mi spaventa la polizia ha scoperto che alle 16 45 di sabato 21 giugno Vincenzo Teti è stato medicato al pronto soccorso del San Camillo per delle ferite lacero contuse alle mani dunque alle 5 del mattino vanno a cercarlo all'hotel Flora a piazza del Biscione 6 nella stanza dove vive con Anna Boccanera stanno dormendo nella camera numero 24 dove viene trovato un coltello a scatto con lama di 7 centimetri un coltello da sub con macchie sospette e un coltello da cucina con la lama a seghetto Teti viene accusato di aver ucciso Graziano Lovaglio e sua moglie Teresa poi domani Vincenzo nega ogni accusa lui e Anna Boccanera vengono portati al commissariato nella casa di via Cutiglia sono state trovate delle tracce di sangue Lovaglio aveva gruppo sanguigno B Teresa A c'è prevalenza di sangue di gruppo A ma il gruppo sanguigno di Teti non lo conosce nessuno perché Vincenzino si rifiuta di farsi prelevare il sangue le prove contro di lui non sono poche ci sono quelle ferite alle mani c'è il coltello a scatto con lama di 7 centimetri quello da sub e quello da cucina con la classica lama a seghetto che sicuramente arriva dalla casa di via Cutiglia l'automobile di Teresa che ha parcheggiato nell'autorimessa di via Britannia 18 alle 16 e 45 del 21 giugno un'altra prova schiacciante lo inchioda a casa dei Lovaglio è stato trovato del nastro adesivo nero era stato acquistato da un uomo con le mani fasciate alla cartolibreria del Marro in via Appia Nuova 169 l'ha commessa quell'uomo se lo ricorda bene e quando gli mostrano una foto di Teti lo riconosce subito l'uomo quel giorno ha acquistato anche dello scotch e dei sacchi di nylon uguali a quelli in cui erano contenuti i cadaveri Vincenzo Teti ha pagato inoltre l'affitto per il mese di luglio in via Cutiglia probabilmente per avere più tempo per liberarsi dei cadaveri ha regalato dei soldi ai figli di Lovaglio li ha portati alla nonna la signora Carmela forse è stato un gesto di pietà nei confronti di due bambini che aveva reso orfani ma non è finita il 30 giugno del 1969 Teti ha impegnato alla cassa di risparmio di Roma un anello in oro bianco con brillante per 270 mila lire è un anello che appartiene a Teresa è un anello che apparteneva a Teresa ed era di Teresa anche la borsetta che Vincenzo ha regalato ad Anna Boccanera successivamente al delitto tra le testimonianze più importanti c'è quella di un uomo di nome Roberto un tappeziere che si è presentato alla polizia spontaneamente raccontando che il 23 o il 24 giugno un uomo che conosceva di vista perché frequentava come lui il circolo Enal era arrivato nel suo negozio ordinandogli dieci sacchi di tela di juta aveva entrambe le mani fasciate e aveva richiesto il lavoro per lo stesso giorno o al massimo per il giorno successivo l'uomo aveva acquistato in tutto dieci metri di tela con la quale erano stati confezionati otto sacchi la polizia verifica che la ricevuta del negozio è del 24 giugno tre giorni dopo la sparizione dei coniugi lovaglio Teti non si sarebbe dunque sbarazzato dei corpi finché non aveva avuto quei sacchi a sua disposizione secondo gli inquirenti i corpi sono stati depezzati nella sala da pranzo dove per avere più spazio Teti ha spostato il tavolo a ridosso della parete sinistra il braccio e la testa sono stati buttati dal ponte Marconi gli altri due sacchi sono stati invece portati nel canneto nel frattempo i figli di Graziano e Teresa vengono portati al collegio Mater Dei di Riccione Vincenzo Teti dice di aver conosciuto l'ovaglio negli ambienti della ricettazione lo aveva conosciuto quattro anni prima Teresa invece la conosceva soltanto da due anni era stato nel loro appartamento di via Cutiglia soltanto due volte e aveva conosciuto i bambini soltanto quel 20 giugno era stato Graziano ad andarlo a prendere al circolo e gli aveva detto che era scocciato per il fatto che la madre e la sorella avessero portato i bambini a casa senza avvisarlo Teti racconta che Teresa è rientrata intorno a Luna e lei e Graziano hanno cominciato a litigare mentre lui si è fatto gli affari suoi rimanendo in cucina dopo aver sentito il rumore di una bottiglia che andava in frantumi e le urla della donna però aveva deciso di intervenire cercando di fermare l'ira di l'ovaglio a quel punto marito e moglie erano usciti per cercare un medico perché Teresa era ferita e lui era rimasto solo con i bambini all'una e mezza aveva suonato Gino l'ovaglio ma non lo aveva fatto entrare dal momento che Graziano gli aveva imposto di non fare entrare nessuno quando Teresa e Graziano sono rientrati hanno cominciato a litigare di nuovo e lui di nuovo era intervenuto e questa volta si era ferito nel tentativo di disarmare l'ovaglio Teti racconta anche di essere stato presente al momento in cui arrivava la polizia chiamata dai vicini racconta che l'ovaglio aveva risposto da dietro la porta dicendo che non era successo niente Graziano e la moglie poi avevano deciso di andarsene e Graziano prima di uscire aveva chiuso a chiave la stanza da pranzo portandosi via la chiave perché c'erano dei vetri rotti e delle gocce di sangue Teti si era addormentato a terra nella stanza dei bambini racconta di non aver fatto entrare i bambini in camera da letto perché c'erano i segni di quella lotta furibonda e poi la mattina successiva li ha accompagnati dalla nonna come chiesto da Graziano successivamente ha portato anche la macchina di Teresa nell'autorimessa Teti aggiunge che la notte tra il 21 e il 22 giugno intorno alle 2 Graziano Lovaglio era ricomparso davanti all'albergo Flora era sceso da un'auto bianca una Giulia era andato a cercarlo Lovaglio gli avrebbe chiesto in prestito un milione di lire perché doveva partire Teti sostiene di aver prestato a Graziano 800.000 lire in cambio di un anello e del suo orologio Vincenzo Teti ha una spiegazione anche riguardo il pagamento da parte sua della ditta di traslochi che avrebbe dovuto portare via i mobili dalla casa dei Lovaglio secondo Teti Graziano Lovaglio voleva lasciare la moglie e sapendo che lui invece voleva sposarsi con Anna Boccanera gli aveva proposto di vendergli i mobili e di prendere lui in affitto quell'appartamento Teti aveva accettato e gli aveva dato un milione e mezzo cifra che comprendeva anche dice l'acquisto della macchina di Teresa Teti parla anche di un misterioso dottore quello presso il quale Graziano quella notte aveva accompagnato la moglie si tratta di un uomo implicato in affari illeciti il dottore nei giorni successivi alla partenza dei Lovaglio lo aveva cercato al telefono al circolo e gli aveva ordinato di acquistare quei sacchi e di portarli a casa di Lovaglio senza fargli troppe domande Teti aveva ubbidito e il dottore da dietro la porta gli aveva detto di lasciare i sacchi sullo zerbino Vincenzo Teti dice di aver immaginato che quei sacchi servissero per portare via dall'appartamento di Via Cutiglia degli oggetti rubati il lungo racconto di Teti non convince gli inquirenti contro di lui ci sono troppi indizi ad esempio quelle macchie di sangue sui suoi vestiti e il suo racconto secondo il quale si sarebbe sporcato del suo sangue dopo essersi ferito nel tentativo di disarmare Graziano non è credibile per gli inquirenti provano a mostrargli le foto dei resti di Lovaglio e di Teresa e lui entra in crisi trema si rifiuta di guardare e l'interrogatorio deve essere sospeso il giorno dopo Teti si ricorda un particolare mentre Teresa e il marito stavano litigando lei aveva detto una frase strana non dovevi fregarli a quelli ma non sa a chi si riferisse racconta che nei giorni successivi era andato nella casa dei Lovaglio a riposare un po' sempre intorno alle due del pomeriggio e aggiunge che aveva notato che la carta da parati era bagnata e che erano stati spostati i mobili la sua testimonianza finisce così dice che non se la sente più di rispondere che scriverà tutto in un memoriale perché quella notte tra il 20 e il 21 giugno Vincenzo Teti era rimasto a casa dei Lovaglio invece di andarsene quando Graziano era rientrato dopo aver accompagnato la madre e la sorella a casa forse il motivo potrebbe essere legato alla questione dei mobili che Lovaglio gli aveva venduto e questa deve essere stata la ragione di quella lite violenta tra Lovaglio e la moglie che della vendita dei mobili non sapeva nulla secondo le testimonianze dei vicini le uniche urla che si erano sentite quella notte erano di Graziano Lovaglio e di Teresa Poi Domani ma allora quale ruolo ha avuto davvero Vincenzo Teti contro di lui ci sono elementi schiaccianti e ne ha giunti anche la sua donna Anna Boccanera che si ricorda perfettamente che il 20 luglio Vincenzo era tornato in albergo in piena notte e lei aveva notato che aveva le scarpe e le calze sporche di terra e incuriosita gli aveva chiesto dove fosse stato e lui aveva risposto soltanto che era stato con un amico lei non gli aveva fatto altre domande a proposito delle mani fasciate Teti aveva detto ad Anna di aver avuto un incidente con la moto lei però non gli aveva creduto allora lui le aveva detto la verità si era ferito durante una lite tra marito e moglie uno dei quali aveva una bottiglia rotta in mano quando domandano ad Anna Boccanera come faccia ad essere sicura che fosse proprio la notte del 20 luglio lei dice che se lo ricorda molto bene perché era la notte prima dello sbarco dell'uomo sulla luna guarda caso il giorno dopo il 21 luglio vengono trovati i sacchi con i resti Vincenzo racconta Anna non voleva sapere i particolari macabri di quella storia raccontata dai giornali e che Anna leggeva ogni sera commentando quella vicenda a cena con i loro amici all'osteria chi aveva buttato via quei poveri resti aveva approfittato proprio della sera in cui tutti i romani erano in casa a guardare la televisione sicuramente non aveva dato nell'occhio viste le strade deserte di Roma Anna Boccanera viene rilasciata non c'entra nulla né sapeva nulla di ciò che faceva Vincenzo fuori dalla loro stanza d'albergo perché Teti si era presentato a casa dei Lovaglio con delle bombole da sub Graziano a quanto dice aveva detto che se ne sarebbe andato un po' in giro in Francia con Teresa senza far sapere a nessuno dove sarebbero andati e che voleva fare delle immersioni già solo che Graziano non sapeva nuotare le bombole Vincenzo Teti le ha prese in prestito da un suo amico un tale Ugo e le ha restituite riportandogliele al circolo Enal scariche erano quando le aveva prese e scariche gliele aveva restituite ci sono le testimonianze di Domenico e Giuseppina Lovaglio fratello e sorella di Graziano Domenico ha 33 anni ed è in carcere a Fossombrone a metà maggio aveva ricevuto la visita del fratello e della cognata e Graziano gli aveva confidato di avere molta paura di qualcuno ma in quel momento Teresa gli aveva dato una gomitata e lui aveva cambiato discorso Giuseppina Lovaglio racconta che suo fratello era molto infelice e che è vero che voleva vendere i mobili spesso aveva visto Graziano piangere disperato ed era al corrente del fatto che il fratello volesse separarsi dalla moglie Domenico Lovaglio l'altra sorella di Graziano racconta che era sempre molto nervoso le diceva che doveva fare lo sguattero che doveva fare la spesa che la moglie non gli dava una lira che era stanco di quella vita e che voleva che la moglie smettesse di stare sul marciapiede secondo Domenica sua cognata aveva un carattere molto chiuso Graziano ha molti problemi dunque non lavora è pieno di cambiari da pagare è ricercato per una condanna da scontare e usa nomi falsi cambiando spesso abitazione vorrebbe separarsi ma nonostante questo continua a rimanere con Teresa che è l'unica a portare dei soldi in casa e che di denaro ne ha messo da parte parecchio e si è comprata anche una macchina lei gli dice anche di avere un altro uomo tra le 19.30 e le 20 del 25 giugno due inquilini di via Cutiglia raccontano che tra le 19.30 e le 20 del 25 giugno avevano visto un uomo vicino all'ascensore è lo stesso uomo che avevano visto trasportare una credenza ma non riconoscono in lui Vincenzo Teti Teresa viene a sapere cinque giorni prima di morire che Vincenzo Teti vuole comprare i mobili della sua casa e trasferirsi lì ma lei non ne vuole sapere e i litigi con Graziano diventano sempre più accesi il 7 agosto del 1969 Vincenzo Teti cerca di impiccarsi nella sua cella ma viene salvato in extremis sotto il materasso trovano una lettera scritta cinque giorni prima in cui racconta che la polizia gli ha suggerito di addossarsi un solo omicidio quello di Graziano per difesa personale avrebbe dovuto dire che quella notte Graziano Lovaglio aveva ucciso sua moglie e che dopo acceccato dall'ira si era scagliato contro di lui che per difendersi lo aveva ucciso poi preso dalla paura aveva sezionato i corpi per poi disfarsene usando quei sacchi che aveva gettato nel Tevere in quel canneto la polizia gli aveva spiegato che non sarebbe stato condannato per aver ucciso Lovaglio per legittima difesa ma avrebbe ricevuto una condanna solo per vilipendi occultamento di cadavere questo è uno stralcio del memoriale di Vincenzo Teti sarebbe molto ma molto conveniente dire queste cose suggeritemi dalla polizia ma io non ho ucciso nessuno non ho gettato nulla nel canneto né nel Tevere io non ho mai fatto a pezzi nessuno perciò è meglio la morte tutti sono convinti della mia colpevolezza dite alla polizia di trovare gli assassini o l'assassino fatelo per quel figlio che sta per nascermi perché se non li trovate sarebbe meglio che non vedesse mai la luce del giorno mi avete fatto passare oltre che per un mostro anche per un rapinatore uno sfruttatore ma io non ho mai ucciso nessuno non ho mai rapinato nessuno e dalle donne non ho mai accettato neppure un caffè mi avete incolpato di cose orribili spero non vi capiti lo stesso per questo ho deciso di impiccarmi spero solo non mi manchi il coraggio all'ultimo momento non voglio aspettare un infame processo un processo bugiardo segregato in questa stretta fose antigenica cella adatta solo per le bestie a metà agosto del 1969 Vincenzo Teti riceve una lettera che dice mostro infame chi ti scrive sono il fratello di Il Fug Graziano e dato che io ho i giorni contati per la mia infame malattia farò del tutto per incontrarmi con te perché io mi ti voglio succhiare il sangue goccia a goccia fino a che tu sei crepato e ti dico questo perché non riesco ad avere pace carogna assassino io con tutto che sono delinquente incallito pregherò i signori magistrati di non avere pietà per un mostro assassino della tua specie mio fratello Graziano quando mi venne a trovare nel carcere di Fossombrone mi è parso molto preoccupato e mi disse di avere una grande paura il fratello di Lovaglio non è il solo a minacciare Vincenzo Teti che nel novembre del 1969 viene trasferito inizia il processo tra il pubblico in tribunale c'è seduto anche Vittorio De Sica sono qui per curiosità dice Teti racconta sempre la stessa storia aveva cenato con Graziano la sorella la madre e i figlioletti avevano riaccompagnato le donne a casa ed erano rientrati in via Cutiglia i bambini quella sera avevano dormito a casa di Lovaglio intorno a luna di notte era rientrata Teresa ed era scoppiata la prima lite furiosa Teti se n'era rimasto in cucina fino a che Teresa lo aveva implorato di aiutarla aveva cercato di fermare Graziano che si era scagliato sulla moglie prendendo la calce e colpendola con una bottiglia rotta poi era caduto a terra in preda ad una crisi epilettica ripresosi gli aveva chiesto scusa per quanto era accaduto ed era uscito con Teresa per portarla dal dottore lui era rimasto a casa senza far entrare nemmeno il fratello di Lovaglio che successivamente intorno all'una e mezza era arrivato in via Cutiglia i coniugi Lovaglio erano rientrati e il litigio era ripreso intorno alle tre e anche questa volta Teti racconta la stessa scena Teresa che invoca il suo aiuto lui che riesce a disarmare Graziano che ha un coltello in mano e cade nuovamente in preda ad una crisi epilettica Teti racconta di aver cercato di creare delle fasce tagliando dei fazzoletti e seminando tracce del suo sangue qua e là Graziano gli aveva detto che lui e la moglie sarebbero partiti per Napoli per raggiungere un certo dottore che avrebbe curato le ferite di Teresa e gli aveva chiesto di riaccompagnare i bambini da sua madre il giorno dopo dopo aver lasciato i bambini dalla madre di Graziano Teti va a consegnare le chiavi dell'auto di Teresa al garagista poi un amico del circolo Enal lo accompagna in ospedale al pronto soccorso dove si fa medicare le mani poi va a cena alla trattoria Umberto secondo il racconto di Teti una volta arrivato davanti all'albergo dove dormiva aveva visto Graziano Lovaglio scendere da un'auto Lovaglio gli aveva chiesto dei soldi in cambio di un anello e di un orologio e nel suo racconto era comparso poi il misterioso dottore che gli aveva detto al telefono di portare dei pacchi in via Cutiglia senza fargli troppe domande Teti aveva eseguito e nei giorni successivi era tornato in via Cutiglia e spiega finalmente che cosa andasse a fare in quei pomeriggi intorno alle 14 in quella casa ci andavo a dormire per fare un riposino pomeridiano il 24 giugno alla ripresa del processo si parla di una lettera inviata ai giudici della corte d'assise da un informatore anonimo che si firma Spinelli sostiene che Teti sia innocente non ha mentito quando ha raccontato che il vero omicida è un dottore a lui sconosciuto viene fornito anche il nome e cognome di questo dottore ed è stato accertato che a Roma esistesse effettivamente un medico che aveva uno studio dentistico in via Stoppani il dentista in quel momento è fuori città con la famiglia in vacanza l'uomo verrà poi dichiarato totalmente estraneo ai fatti e fin da subito non era stata scartata l'ipotesi di una vendetta nei suoi confronti da parte di qualcuno per chissà quali motivi nel giugno del 1973 Vincenzo Teti denuncia la televisione italiana per diffamazione in riferimento al quinto episodio della serie televisiva Qui Squadra Mobile in cui è stato raccontato il duplice omicidio di cui è protagonista in un'altra lettera datata a primo agosto indirizzata al giudice Ugo Berni Carnani Teti scrive Io non ho mai ucciso nessuno e chiunque mi crede colpevole che andasse a quel paese e gli auguro di capitargli di peggio che a me trovate gli assassini Ringrazio i pochi che credono nella mia innocenza gli altri vadano pure al diavolo non ho ucciso non ho rapinato non ho sfruttato nessuno e non ho fatto a pezzi nessuno Giovedì 13 luglio 1972 arriva la sentenza la corte di assise di Roma condanna Vincenzo Teti a 30 anni per i due omicidi a 10 anni per vilipendio di cadavere e a 4 anni e 6 mesi per il furto dell'anello e della borsetta appartenenti a Teresa poi domani in totale 44 anni e 6 mesi per il cumulo giuridico delle pene sono stati ridotti a 30 anni Teti urla è sconvolto scoppia a piangere dimenandosi ci vogliono 4 carabinieri per contenerlo continua a gridare di essere innocente secondo l'accusa quando il fratello di Graziano è arrivato in via Cutiglia quella notte almeno uno dei due coniugi era ancora vivo Teti potrebbe aver ucciso prima Graziano Lovaglio cercando poi di coinvolgere nel suo piano Teresa non riuscendoci ha dovuto uccidere anche lei strangolandola quello che non è chiaro è il movente il 14 aprile del 1975 la corte d'appello di Roma conferma i 30 anni è il 1978 e Vincenzo Teti scrive una sorta di confessione che viene pubblicata sul giornale del carcere Teti dice di aver ucciso per legittima difesa soltanto Graziano Lovaglio che dopo aver ucciso la moglie si era avventato furiosamente contro di lui si era difeso Teti racconta come aveva potuto uccidendolo a quel punto consapevole del fatto che mai nessuno gli avrebbe creduto ha ammesso di aver fatto sparire i corpi Teti viene trasferito prima a Porto Azzurro poi al carcere di Volterra a Spoleto e infine a Rebibbia è il 12 settembre del 1985 e a Vincenzo Teti considerato un detenuto modello viene concessa la semilibertà dopo aver scontato 16 anni di carcere metà della pena potrà lavorare come giardiniere nella parrocchia della Sacra Famiglia in via Filippo Tagliani al Portuense quel luogo riporta la sua infanzia Teti è rimasto a lungo nel collegio degli orfanelli proprio vicino al convento l'uomo rilascia alcune dichiarazioni al quotidiano Repubblica quando gli domandano perché non sia tornato da sua madre che è ancora viva lui senza esitazione dice che non vede sua madre da quando lo hanno arrestato sa come lei è sempre stata convinta che io abbia infangato il buon nome della famiglia tant'è vero che non è mai venuta a trovarmi in galera ancora una volta Vincenzo Teti ci tiene a raccontare la sua versione dei fatti queste le sue parole ho ucciso è vero e l'ho confessato ma ho ucciso soltanto lui Graziano dopo che aveva ammazzato la moglie l'ho fatto per legittima difesa che Graziano fosse violento e manesco lo sapevano tutti anche il capo della squadra mobile Palmeri che venne da me in cella e mi disse Vincenzo leggi qua questo è il codice penale guarda quante attenuanti puoi avere se confessi il tuo delitto ma io scelsi il silenzio perché avevo orrore di quello che avevo fatto dopo vede so che certe cose non dovrei dirle ma l'omicidio non mi ha mai terrorizzato non mi è mai pesato ma sezionare i cadaveri ero sotto shock non c'è altra spiegazione io di quanto è successo dopo l'omicidio non ricordo nulla la parola mostro non mi ha mai spaventato avevo squartato due persone dunque che potevo dire sinceramente mi ha dato sempre più fastidio sentirmi chiamare pappone perché quello non l'ho mai fatto è un'etichetta che mi hanno appiccicato i giornali e che da anni cerco di levarmi di dosso so che ora non posso permettermi più neanche piccoli errori in carcere ho aiutato tanta gente ad esempio tanti giovani drogati ho pacchi di lettere delle famiglie di questi ragazzi che mi ringraziano nel 74 dovevo essere trasferito da regina Celi a Porto Azzurro i detenuti firmarono cinque petizioni perché rimanessi 1500 firme a Re Bibbia mi hanno lasciato le chiavi di tutti i magazzini io maneggiavo seghe accette picconi forbici eppure fino a qualche anno prima c'era chi mi considerava un detenuto pericoloso ora so che non posso commettere più errori so che questi frati possono aiutarmi che vogliono aiutarmi del resto me l'hanno dimostrato già dandomi un lavoro spero che nessuno dia loro fastidio ecco se qualcuno dovesse disturbarli per causa mia questo mi farebbe soffrire molto al giornalista che gli domanda come vede il suo futuro e che cosa gli manchi oggi Vincenzo Teti risponde i figli vorrei tanto avere figli ma lei capisce chi è che correrà il rischio di essere chiamata la moglie del mostro in seguito Vincenzo Teti ha vissuto in via del Tirreno ma poi dicono che se ne sia andato al nord forse a Bergamo dove è morto nel 2012 che dice Grazie a tutti.